Il Partito Democratico Pescarese riaccende l'attenzione sulle criticità dell'ospedale civile Santo Spirito, con liste d'attesa fino a 600 giorni e una situazione diversa da quella rassicurante fornita dai vertici ASL. Siamo riusciti finalmente a riportare all'ordine del giorno, nel dibattito cittadino, quello che è un annoso problema, quello delle lungaggine e le liste d'attesa. Abbiamo fatto una prima denuncia al quale abbiamo avuto delle risposte parziali, quello che vogliamo fare oggi è avviare un atto di sindacato ispettivo. La ASL di Pescara dice di aver stanziato oltre 1.200.000 euro per il personale, ma in realtà questo va a coprire solamente gli straordinari. Dice di aver risolto l'allungaggio delle prestazioni, solo 5 le prestazioni di fascia P che supererebbero il limite delle liste d'attesa, ma in realtà noi abbiamo visto che sono 21. Quello che vogliamo sapere oggi dalla ASL di Pescara è come intende riorganizzare, se intende riavviare un grande piano di rientro di questa emergenza delle liste d'attesa e vogliamo capire con quali soldi farlo e vogliamo anche sollecitare il sindaco che si faccia carico dei problemi degli ultimi. Oggi, 15 marzo, una ricorrenza per mettere in risalto un'altra grave criticità che però non interessa solo Pescara. In occasione della giornata per i disturbi del comportamento alimentare, oggi denunceremo che in Abruzzo ci sono zero posti letto per affrontare questa malattia. Non è possibile, il Partito Democratico deve stare dalla parte di chi ha bisogno, la sanità è una delle priorità che affronteremo durante tutto il nostro percorso che ci porterà alla ridefinizione dei nostri programmi e su questo vogliamo confrontarci.